Forse sarà il virus, forse sarà la nuova normativa, però sta di fatto che ci troviamo di fronte a tante persone che abbandonano il posto di lavoro per un salto nel buio. Che sta accadendo a questa nostra pazza Italia? Sì, purtroppo stiamo notando con la pandemia un numero importante di lavoratori che si rivolgono ai nostri uffici per le dimissioni. Vogliono lasciare il posto di lavoro facendo come hai detto un salto nel buio perché fondamentalmente non hanno nessun paracadute, nessun ammortizzatore sociale, nessuna disoccupazione che possa un attimo sostenere il loro salario e vengono a chiederci le dimissioni. Perché nel posto di lavoro non vogliono più starci? Perché le condizioni di lavoro sono pessime? Perché spesso i salari sono bassissimi e di conseguenza il lavoratore è disposto a perdere il proprio posto di lavoro pur di liberarsi da una forma alla fine di schiavitù. Nonostante noi diciamo che comunque di aspettare che magari se uno trova un'occasione ma intanto il posto di lavoro lo deve mantenere, i lavoratori sono disposti a fare questo salto nel buio e perdere il posto di lavoro pur di non ritornare al lavoro che facevano. Però ci sono anche persone che prendono stipendi importanti e che dicono basta, non ne voglio più sapere. Sì, diciamo noi lo notiamo questo soprattutto più che altro in settori come quelli del turismo nel senso lavoratori che chiedono, fanno le proprie dimissioni perché nel turismo come sappiamo vuole un po' la stagionalità, vuole un po' le condizioni di lavoro estremo, i lavoratori danno le proprie dimissioni volontari. Però questo capita anche comunque in settori dove per esempio quelli del commercio dove comunque il lavoratore a un quarto livello del commercio ha una paga abbastanza adeguata dove ci sono anche condizioni di lavoro decenti, comunque il grado di sfruttamento anche dovuto alla richiesta continua da parte dell'azienda di produttività mettono talmente sotto pressione a livello psicologico il lavoratore che dice basta, non ce la faccio più e pretende le proprie dimissioni volontarie.